ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco base mar compressa rivestita welcome farma spa ultimo aggiornamento 17 settembre 2021 cosa base mar compressa rivestita confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere base mar compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa base mar compressa rivestita base mar compressa rivestita a un farmaco a base del principio attivo ciprofloxacina cloridrato appartenente alla categoria degli antibatterici chinolonici e nello specifico fluoro chinoloni e commercializzato in italia dall'azienda welcome farma spa base mar compressa rivestita può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni base mar 250 mg 10 compresse rivestite informazioni ha indicato nel trattamento delle infezioni riportate sotto vedere paragrafine e commerciali sulla prescrizione titolare welcome farma spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo ciprofloxacina cloridrato gruppo terapeutico antibatterici chinolonici forma farmaceutica compressa rivestita indicazioni base mar 250 mg compresse rivestite con film ha indicato nel trattamento delle infezioni riportate sotto vedere paragrafi 4 4 e 5 1 prima di iniziare la terapia si deve prestare particolare attenzione alle informazioni disponibili sulla resistenza alla ciprofloxacina si raccomanda di fare riferimento alle linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici adulti infezioni delle basse vie respiratorie sostenute da batteri gramma negativi riacutizzazioni di bronco pneumopatia cronica ostruttiva infezioni broncopolmonare in corso di fibrosi cistica o di bronchiectasie polmonite otite media cronica prulenta riacutizzazioni di sinusite cronica particolarmente se causate da batteri gramma negativi infezioni delle vie urinarie uratrite e cervecite gonococciche epididimo orchite compresi i casi da neisseria gonoloea malattia infiammatoria pelvica compresi i casi da neisseria gonoloea nelle infezioni dell'apparato genitale di cui sottra qualora siano sostenute da neisseria gonoloea ritenute tali a particolarmente importante ottenere informazioni locali sulla prevalenza di resistenza alla ciprofloxacina e confermarne la sensibilità tramite prove di laboratorio infezioni del tratto gastroenterico ad esempio diarrea del viaggiatore infezioni intraddominali infezioni della cute e dei tessuti molli causate da batteri gramma negativi otite esterne maligna infezioni osse ed articolari trattamento di infezioni in pazienti neutropenici profilassi di infezioni in pazienti neutropenici profilassi di infezioni invasive da neisseria meningitidis antrace inalatorio profilassi e terapia dopo esposizione bambini adolescenti infezioni broncopolmonare in corso di fibrosi cistica causate da pseudomonas eruginosa infezioni complicate delle vie urinarie e pielonefrite antrace inalatorio profilassi e terapia dopo esposizione la ciprofloxacina può anche essere usata per trattare infezioni gravi nei bambini negli adolescenti qualora lo si ritenga necessario il trattamento deve essere iniziato solo da medici con esperienza nel trattamento della fibrosi cistica e barra o di infezioni gravi nei bambini e negli adolescenti vedere paragrafi 4 4 e 5 1 posologia la posologia varia in funzione dell'indicazione della gravità e della sede dell'infezione della sensibilità dell'agente patogeno alla ciprofloxacina della funzionalità renale del paziente e nei bambini e negli adolescenti del peso corporeo la durata del trattamento dipende dalla gravità della malattia non cacopiraito dal suo decorso clinico e batteriologico il trattamento di infezioni sostenute da certi batteri ad esempio pseudomonas eruginosa acinetobactero stafilococchi può richiedere dosi di ciprofloxacina più a elevate è l'associazione con altri agenti antibatterici appropriati il trattamento di talone infezioni ad esempio la malattia infiammatoria pelvica le infezioni intra dominali le infezioni in pazienti neutropenici e le infezioni osse ed articolari può richiedere l'associazione con altri agenti antibatterici appropriati adulti indicazioni dose giornaliera in mg durata totale del trattamento comprensiva di un'eventuale terapia parentale iniziale con ciprofloxacina infezioni delle basse vie respiratorie da 500 mg due volte al giorno a 750 mg due volte al giorno da 7 a 14 giorni infezioni delle alte vie respiratorie riacutizzazione di sinusite cronica da 500 mg due volte al giorno a 750 mg due volte al giorno da 7 a 14 giorni otite media cronica prulenta da 500 mg due volte al giorno a 750 mg due volte al giorno da 7 a 14 giorni otite esterne maligna 750 mg due volte al giorno da 28 giorni fino a tre mesi infezioni delle vie urinarie cistite non complicata da 250 mg due volte al giorno a 500 mg due volte al giorno tre giorni nelle donne prima della menopausa può essere usata una dose singola di 500 mg cistite complicata pieno nefrite non complicata 500 mg due volte al giorno 7 giorni pieno nefrite complicata da 500 mg due volte al giorno a 750 mg due volte al giorno almeno 10 giorni può essere proseguito per oltre 21 giorni in casi particolari ad esempio in presenza di ascesso prostatite da 500 mg due volte al giorno a 750 mg due volte al giorno da 24 settimane acuta a 46 settimane cronica infezioni dell'apparato genitale uratrite e cervecite gonococciche 500 mg come dose singola 1 giorno dose singola epididimo orchide malattie infiammatoria pelvica da 500 mg due volte al giorno a 750 mg due volte al giorno almeno 14 giorni infezioni del tratto gastroenterico e infezioni intraddominali diarrea di origine batterica anche causata da scigella spp eccetto la scigella disenteriae tipo 1 e trattamento empirico della diarrea del viaggiatore grave 500 mg due volte al giorno 1 giorno diarrea causata da scigella disenteriae tipo 1 500 mg due volte al giorno 5 giorni diarrea causata da vibrio colerae 500 mg due volte al giorno 3 giorni febbre tifoide 500 mg due volte al giorno 7 giorni infezioni intraddominali sostenute da batteri grame negativi da 500 mg due volte al giorno a 750 mg due volte al giorno da 5 a 14 giorni infezioni della cute e dei tessuti molli da 500 mg due volte al giorno a 750 mg due volte al giorno da 7 a 14 giorni infezioni osse ed articolari da 500 mg due volte al giorno a 750 mg due volte al giorno massimo tre mesi trattamento di infezioni o profilassi di infezioni in pazienti neutropenici la ciprofloxacina deve essere somministrata in associazione con un opiagia enti batterici appropriati in accordo con le linee guida ufficiali da 500 mg due volte al giorno a 750 mg due volte al giorno la terapia deve proseguire per l'intera durata della fase neutropenica profilassi di infezioni invasive da neisseria meningitidis 1 x 500 mg come dose singola 1 giorno dose singola profilassi e terapia dopo esposizione dell'antrace inalatorio in persone in grado di ricevere una terapia orale qualora clinicamente appropriato la somministrazione del farmaco deve iniziare il pià presto possibile dopo l'esposizione accertata o presunta 500 mg due volte al giorno 60 giorni dalla conferma dell'esposizione al bacillus antracis bambini e adolescenti indicazioni dose giornaliera in mg durata totale del trattamento comprensiva di un'eventuale terapia parenterale iniziale con ciprofloxacina fibrosi cistica 20 mg bar a kg di peso corporeo due volte al giorno per un massimo di 750 mg per dose da 10 a 14 giorni infezioni complicate delle vie urinarie e pielonefrite da 10 mg bar a kg di peso corporeo due volte al giorno a 20 mg bar a kg di peso corporeo due volte al giorno per un massimo di 750 mg per dose da 10 a 21 giorni profilassi e terapia dopo esposizione dell'antracee inalatorio in persone in grado di ricevere una terapia orale qualora clinicamente appropriato la somministrazione del farmaco deve iniziare il pià presto possibile dopo l'esposizione accertata o presunta da 10 mg bar a kg di peso corporeo due volte al giorno a 15 mg bar a kg di peso corporeo due volte al giorno per un massimo di 500 mg per dose 60 giorni dalla conferma dell'esposizione al bacillus anthracis altre infezioni gravi 20 mg bar a kg di peso corporeo due volte al giorno per un massimo di 750 mg per dose in funzione del tipo di infezione anziani i pazienti anziani devono essere trattati con una dose stabilita in funzione della gravità dell'infezione e della clarance della creatinina del paziente ridotta funzionalità renale ed epatica dosi iniziali e di mantenimento raccomandata per i pazienti con ridotta funzionalità renale clarance della creatinina ml bar a min bar 1,73 m2 creatinina sierica amumol bar l dose orale mg 124 vedere dosaggio abituale 30 a 60 124 168 250 a 500 mg ogni 12 ore 30 250 a 500 mg ogni 24 ore pazienti emodializzati 250 a 500 mg ogni 24 ore dopo la dialisi pazienti in dialisi peritoneale 250 a 500 mg ogni 24 ore non ha necessaria alcuna modifica di dosaggio nei pazienti con ridotta funzionalità epatica la somministrazione a bambini con ridotta funzionalità renale e barra o epatica non ha stata oggetto di sperimentazione modo di somministrazione le compresse devono essere inghiottite con un po di liquido senza masticarle e possono essere assunte indipendentemente dai pasti l'assunzione a stomaco vuoto accelera l'assorbimento del principio attivo le compresse di ciprofloxacina non devono essere ingerite assieme a latte derivati ad esempio yogurt o bevande arricchite con sali minerali ad esempio succo d'arancia addizionato di calcio vedere paragrafo 4 5 se il paziente non ha in grado di assumere le compresse a causa della gravità della malattia o per altre ragioni ad esempio pazienti in nutrizione enterale si raccomanda di iniziare la terapia con ciprofloxacina endovenosa fino a quando non sia possibile passare alla somministrazione orale controindicazioni ipersensibilità al principio attivo ad altri chinoloni ad uno qualsiasi degli eccipienti vedere paragrafo 6 1 somministrazione concomitante di ciprofloxacina e tizanidina vedere paragrafo 4 5 avvertenze speciali e precauzione di impiego studi epidemiologici indicano un aumento del rischio di aneurisma e dissezione della orta dopo l'assunzione di fluoroquinoloni specialmente nella popolazione anziana pertanto i fluoroquinoloni devono essere utilizzati unicamente dopo un'attenta valutazione vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione effetti di altri medicinali sulla ciprofloxacina farmaci noti per prolungare l'intervallo qt base mar come altri fluoroquinoloni deve essere usato con cautela nei pazienti che assumono farmaci noti per prolungare vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere base mar compressa rivestita insieme ad altri farmaci come a euro saddam el na euro a euro samminofillina galenica senese a euro a euro ğer sanminofillina sal-fa euro a euro antev scminllä compressa sospensione a euro euro santepsin polvere a euro a euro satis a euro euro sartista euro euro sascriptina euro a euro sbendamustina corda euro a euro sbendamustina dottore di zile a euro a euro sbendamustina eg a euro a euro sbendamustina e euro a euro sbenda mustina medaca euro a euro sbio calcio di 3 an euro a euro sbifo zila euro a euro scacchit mille a euro a euro scacchit vitamina di 3 an euro a euro scada 3 a euro a euro scalcio carbonato ed a euro a euro scalcio carbonato più di it di 3 ad ca euro a euro scalcio carbonato più di it di 3 al musa euro a euro scalcio carbonato più di it di 3 doc generi euro a euro scalcio carbonato più vite di trega euro a euro scalcio carbonato più vite di tre pensa euro a euro scalcio carbonato più vite di tre riunione alta euro a euro scalcio cloruro bioindustrial punto i punto m punto a euro a euro scalcio cloruro galenica senese soluzione uso interno euro a euro scalcio cloruro monico euro a euro scalcio cloruro salfa euro a euro scalcio dia euro a euro scalcio più magnesio cloruro bioindustrial punto i punto m punto a euro a euro scalcio gluconato 10 per cento di brown a euro a euro scalcio gluconato bioindustrial punto i punto m punto a euro a euro scalcio gluconato galenica senese a euro a euro scalcio gluconato monico a euro a euro scalcio gluconato salfa euro a euro scalcio savio a euro a euro calcio md 3 sandoz a euro a euro scali svita euro a euro scal plus 3 a euro a euros capaxi la euro a euro citra fletta euro a euro citrato espresso gabbiani a euro a euros cromatom ferro compresse effervescenti a euro a euros crystal sola euro a euros degastri la euro a euros d'incre la euro a euros di trosta euro a euros elettrolitica bil.mante con glucosio bioindustrial punto i punto m punto a euro a euros elettrolitica bil.mante in punto i più glucosio monico euro a euros elettrolitica bil.mante in punto i più glucosio baxter a euro a euros elettrolitica bil.mante in punto i più glucosio galenica senese a euro a euros elettrolitica bil.mante in punto i più glucosio salfa euro a euros elettrolitica bil Rehydro. Con glucosio più calc. Gluc. scab italia euro a euros elettrolitica ec.pediatrica galenica senese a euro a euros elettrolitica ec.pediatrica monico a euro a euros elettrolitica ec.pediatrica salfa euro a euros elettrolitica raid più gl più cardi relcona to fret e new scar bitalia euro a euros elettrolitica raid più gl più ca del con a to galenica senese a euro a euros elettrolitica raid più gl più cardi al con a tos al fa euro a euros elettrolitica reidratante bioindustria lün sol per inf ria euro a euros elettrolitica reidratante ii ii black spera euro a euros elettrolitica reidratante ii diaco a euro, a euros elettrolitica reidratante ii più glucosio fresenius cabitalia a euro, a euros elettrolitica reidratante ii più glucosio monico a euro, a euros elettrolitica reidratante ii fresenius cabitalia a euro, a euros elettrolitica reidratante ii galenica senese a euro, a euros elettrolitica reidratante ii monico a euro, a euros elettrolitica reidratante ii salfa a euro, a euro se elettroliti carent. Più gl più nagro conato bioindustrial.i.m.a euro, a euro se elettroliti carent. Più gl più nagro conato galenica senese a euro, a euro se elettroliti carent. Più nagro conato Baxter a euro, a euro se elettroliti carent. Più nagro conato bioindustrial.i.m.a euro, a euro se elettroliti carent. Più nagro conato galenica senese a euro, a euro se elettroliti carent. Più nagro il conato monico a euro, a euros elettroliti carent. Più nagro il conato salfa a euro, a euros elettroliti carent. Più pot più gl più nagro il conato bioindustrial a euro, a euros elettroliti carent. Più pot più gl più nagro il conato galenica senese a euro, a euros elettroliti carent. Più pot più gl più nagro il conato monico a euro, a euros elettroliti carent. Più POT più GL più Nag rigorconato salfa Euro, a EUR os elettroliti carent. PH 7,4 più Nag rigorconato bioindustrial IMA Euro, a EUR os elettroliti carent. PH 7,4 più Nag rigorconato salfa Euro, a EUR os septadone a Euro, a EUR os Euro Cal di triane a Euro, a EUR os extrane alla Euro, a EUR as ferro compże Euro, a EUR as ferro gradaio a euro a euro fairo grado dal euro a euro spero grado fuller euro a euros ferroggine euro a euro ssf e a i bounced o mica complesso a euro a euro sfs calcio foljou ratum copper c adopterà euro euro sfoc sinola compressa masticabile a euro a euro sfoc reservoir a euro a euro proc가 bian ф раб на euro a euro st Mexico Russiorei indigestione a euro a euro job foto a euro euro guldco ferro euro euro Angels Osa euro euro si dra cala euro euro sidro si cloroquina doca euro euro si br بعere euro euro ci solitea euro euro schetto Dola Euro Lacte o la euro a euro Slevacta euro a Euro los ferrona euro euro smalox compresa euro euro smalox compressa masticabile euro euro smalox Plus compression masticabile euro Aerosma Alox Plus, sospensione A-Euro, Aerosma Alox, sospensione A-Euro, Aerosmagnesia Bisurata Aromatica A-Euro, Aerosmagnesia Effervescente Sella A-Euro, Aerosmagnesia S-Pellegrino A-Euro, Aerosmagnesiosulfato Bioindustrial.i.m.a-Euro, Aerosmagnesiosulfato Galenica Senese A-Euro, Aerosmagnesiosulfato Salfa A-Euro, Aerosmetadone Cloridrato Multini A-Euro, Aerosmetocal Vitamina D-3A-Euro, Aerosnate Cald-3, Compressa Masticabile A-Euro, Aerosnate 1000 A-Euro, Aerosmavizzan A-Euro, Aerosniferex A-Euro, AerosnutrinealPD 4 A-Euro, Aerosro 3 A-Euro, Aerososteofos3 A-Euro, Aerososveren A-Euro, Aerospeditraccia A-Euro, Aerospicoprepa A-Euro, Aerosplaquennil A-Euro, Aerosprontoferro A-Euro, Aerosringer Accetato Probax per A-Euro, Aerosringer Accetato». bioindustrial.i.m.a euro, a eurosringer accettato diaco a euro, a eurosringer accettato più glucosio galenica senese a euro, a eurosringer accettato fresenius cab Italia a euro, a eurosringer accettato galenica senese a euro, a eurosringer accettato monico a euro, a eurosringer accettato salfa a euro, a eurosringer più glucosio galenica senese a euro, a euro eurosringer galenica senese a euro a euro saringer lattato baxter a euro a euro saringer lattato b brown a euro a euro saringer lattato bioindustrial punto i punto m punto a euro a euro saringer lattato di acqua euro a euro saringer lattato più glucosio galenica senese a euro a euro saringer lattato eurospital a euro a euro saringer lattato fresenius cab italia euro a euro saringer lattato galenica senese a euro a Euro Zringer Lattato Monico a euro, Euro Zringer Lattato Salfa a euro, Euro Zringer Monico a euro, Euro Zringer Salfa a euro, Euro Sirdeluda a euro, Euro Sirturo a euro, Euro Sol. Cardioplegica Bioindustrial IMSOL Cardioplegica Bioindustrial IMSOL Cardioplegica Bioindustrial IMSOL Cardioplegica Bioindustrial IMSOL dimostrato effetti vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari per i suoi effetti neurologici la ciprofloxacina può influenzare i tempi di reazione in maniera tale da compromettere la capacità di guida e l'uso di macchine effetti indesiderati le reazioni avverse comunemente riportate sono la nausea e la diarrea le reazioni avverse segnalate con base mar terapia orale e indovinosa e sequenziale nell'ambito delle sperimentazioni cliniche e durante la vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio in caso di sovradosaggio si deve intervenire con un trattamento sintomatico si deve effettuare un monitoraggio con ecg per la possibilità di prolungamento dell'intervallo qt un sovradosaggio di 12 g ha dato luogo a lievi sintomi di tossicità un sovradosaggio acuto di 16 g ha causato insufficienza renale acuta i sintomi del sovradosaggio consistono in senso di instabilità tremore cefalea stanchezza convulsioni allucinazioni confusione malessere addominale compromissioni della funzionalità renale ed epatica cristalluria ed ematuria a zero stata segnalata tossicità renale reversibile oltre alle consuete misure di emergenza esempio svuotamento ventricolare seguito da carbone medicinale si raccomanda di mantenere sotto controllo la funzione renale ed il ph urinario se necessario acidificando le urine per prevenire la cristalluria mantenere adeguata idratazione antiacidi contenenti calcio e magnesio possono teoricamente ridurre l'assorbimento della ciprofloxacina in sovradosaggio solamente una piccola quantità di ciprofloxacina 10 per cento viene eliminata con l'emodialisi o la dialisi peritoneale proprietà farmacodinamiche categorie farmacoterapeutica fluoroquinoloni codice atc il lunga 01 ma 02 meccanismo d'azione l'azione battericida della ciprofloxacina in quanto antibatterico fluoroquinoloni co al risultato dell'inibizione della toposomerasi di tipo ii dna girasi e della toposomerasi ii di proprietà farmacocinetiche assorbimento in seguito a somministrazione orale di una compressa da 250 mg 500 mg e 750 mg la ciprofloxacina viene assorbita rapidamente ed ampiamente prevalentemente a livello dell'intestino tenue raggiungendo dati preclinici di sicurezza i dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità per dose singola tossicità a dosi ripetute potenziale cancerogeno tossicità riproduttiva come molti altri elenco degli eccipienti amido di mais cellulosa micro cristallina e 460 cross povidone e 1202 silice colloidale anidra magnesio sterato e 572 i promellosa 15 cp macro gol 4000 titanio di ossido e 171 farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di base mar compressa rivestita base di ciprofloxacina cloridrato sono battizzer bosix compressa rivestita ciprofloxacina abc compressa rivestita ciprofloxacina accord ciprofloxacina almus ciprofloxacina alter ciprofloxacina eurobindo ciprofloxacina doc generici ciprofloxacina eg ciprofloxacina gitt ciprofloxacina creta ciprofloxacina milan generics compressa ciprofloxacina acina pensa ciprofluxa cina farmacare ciprofluxa cina ratio farm ciprofluxa cina sandoz ciprofluxa cina sa ciprofluxa cina tecnigen ciprofluxa cina zentiva ciproxin compressa ciproxin compressa compresse rivestite ciproxin granuli cuspice eoxin flontalexin generflon gerbat compressa rivestita i bixacin kirox macar rociflor samper un lax compressa rivestita fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione pià aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato